Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale DivaGitaly. Torniamo a parlare di aggiornamenti dei sistemi multimediali Volkswagen. Nello specifico abbiamo davanti un MiB2 montato su una Golf, quindi parliamo di appunto Volkswagen. Questi sistemi multimediali sono stati montati diciamo dal 2016 al 2020 su un po' tutte le vetture del gruppo, quindi la Golf, la Tiguan, la T-Roc, la T-Cross, la Polo, hanno tutte bene o male il sistema multimediale MiB2 durante questo periodo di tempo. Il sistema multimediale MiB2 che nonostante ovviamente non sia più in produzione perché a partire dal 2021 Volkswagen ha cominciato a montare i MiB3, ha ricevuto durante gli anni tanti aggiornamenti. Esistono due principali aziende produttrici di questi sistemi multimediali e in base al firmware che monta l'unità si capisce se sia una o un tipo o l'altro. Ora andando a tenere il dito qui sul tasto menu, ok, per un po' di secondi si entra nel menu service. Il menu service ci serve per andare a vedere quale versione abbiamo. Allora io monto la versione 0879, ok, questo sistema multimediale che dal 2018 viene montato sulle Golf per esempio e aveva cominciato con la versione 0867 fino ad arrivare alla 0891. Poi non si sa per quale motivo, Volkswagen ha cambiato l'ordinamento, non è più andata con una diciamo numerica progressiva e quindi dopo ha rilasciato lo 08737679 e ora c'è un nuovo aggiornamento da fare, ok, uscito proprio in questi giorni. Quindi ora andremo ad aggiornare l'unità e per spiegarvi poi anche un po' meglio il discorso dei firmi e vi dico che i primi due numeri sono quelli che identificano sia la casa produttrice a livello di hardware, cioè chi fa la radio, ok, e anche i vari firmware. Se montate un firmware che inizia con 01020304 avete un'altra famiglia di produttore hardware, ok, nello specifico Tecnisat e per queste radio l'ultimo aggiornamento è lo 0480. Avevamo già fatto un video l'anno scorso, lo trovate sul canale YouTube, quindi cercate aggiornamento firmware 0480 e quello è l'aggiornamento disponibile per i Tecnisat. Questa unità è prodotta dalla Delphi, Delphi ha sempre buttato dentro i firmware con versioni 0607 e l'ultimo era 08, appunto prodotto dal 2018 in poi, quindi ad oggi, 2023, ancora rilasciano aggiornamenti, cosa molto positiva. Quindi ora cosa faccio? Prendo una schedina SD dove ho messo dentro il software, la vado a inserire nell'unità radio, ok, che vi ricordo non è lo schermo ma è fisicamente presente nel cassettino e vado a procedere con l'aggiornamento, ok? Quindi ci rivediamo fra un po', l'aggiornamento sicuramente ci mette parecchio tempo, erano un paio d'anni che non uscivano aggiornamenti per cui sicuramente ci avranno messo dentro un sacco di novità, novità che non vi sto a leggere perché l'informativa Volkswagen sono ben 6 pagine, piene zeppe di novità, quindi è inutile che sto qua a leggerlo perché stiamo qua 10 minuti. Procedo con l'aggiornamento e ci vediamo dopo, diciamo, ad aggiornamento effettuato. E rieccoci ragazzi, update completato, radio già riavviata, andiamo a vedere, ora montiamo il software 0883, ossia l'ultimo disponibile che come vi dicevo è uscito da qualche giorno. Le migliorie sono tante, vale la pena sicuramente farlo anche perché era più di un anno, forse un anno e mezzo che non usciva alcun aggiornamento per questi modelli di radio, quindi avranno sistemato sicuramente moltissime cose. Fra le novità che ho letto ci sono anche poi le migliorie per quanto riguarda il discorso della compatibilità con Apple CarPlay Android Auto perché ovviamente sono andati ad aggiungere la compatibilità con nuovi modelli di telefoni usciti ovviamente nell'ultimo periodo. Se vi interessa fare questo aggiornamento contattateci, vi ricordo che avevamo già fatto il video dell'altro aggiornamento, lo 0480 per gli altri modelli di radio, se avete un firmware che inizia con le lettere 08, vi ricordo che per entrare qui basta tenere spinto il menu 10 secondi, se avete appunto un firmware che inizia con 08 e altri due numerini è possibile andare a installare questo aggiornamento. Contattateci, in descrizione trovate tutti i nostri riferimenti ma molto semplicemente il sito è vagitaly.it e appunto lo staff di Vagitaly vi saluta, iscrivetevi al canale, date like e contattateci. Alla prossima, ciao ragazzi!